Rivoluzione Previdenziale, un evento che a suggestione organizza in collaborazione con Ben Pepparibà Investment Partners e Horizon Capital Pioneer Investments nella giornata dell'8 luglio a Milano. Spieghiamo il perché della rivoluzione, perché tratteremo non solo le novità legate alla materia degli investimenti, ma anche il più ampio ruolo che i prodotti di Previdenza Integrativa sono chiamati a ricoprire nel finanziamento dell'economia reale. Per avere uno sguardo a 360 gradi non potranno mancare un'analisi degli aspetti fiscali e un confronto con analoghe esperienze a livello internazionale. La partecipazione all'evento è gratuita, siete tutti invitati, in particolar modo, coloro che vogliono conoscere in tempo reale le novità che interesseranno il campo della Previdenza Integrativa. Attenzione però, ricordate di registrarvi sul sito internet a suggestioni. Appuntamento l'8 luglio a Milano.